Quanto è importante parlare ai cittadini e combattere le fake perché sappiamo quante false notizie siano circolando su vari canali in questo momento? Guardi, è estremamente importante che ci sia un'informazione molto diffusa e molto chiara e dobbiamo essere tutti uniti nel dare le stesse informazioni in maniera tale che non ci sia confusione, non si creino dei dubbi, non si creino delle esitazioni ulteriori.